Con il risultato finale di 166 voti favorevoli, 41 contrari e 12 astenuti, ieri il Senato ha dato il via libera definitivo per il passaggio dei comuni di Monte Copiolo e Salso Feltrio dalle Marche e dalla provincia di Pesaro Urbino all'Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia riminese. Il lungo iter referendario aveva avuto origine nel giugno del 2007, con le votazioni nei due comuni. Qualche anno più tardi, nel 2012, era poi arrivato il via libera per l'aggregazione da parte dell'Emilia-Romagna. Mentre nel 2016, la regione Marche aveva espresso parere contrario. Nel 2019, infine, la Camera aveva approvato il distacco di Monte Copiolo e Salso Feltrio. Tappe di un percorso durato 14 anni e il cui esito finale ha suscitato diverse reazioni dal mondo politico e non solo. A partire dal presidente della provincia di Pesaro Urbino, Giuseppe Paolini, e dal presidente della regione, Francesco Acquaroli, che hanno espresso dispiacere per la perdita di un'importante zona del Monte Feltro. Il sindaco di Monte Copiolo, Pietro Rossi, ha ricordato poi le indicazioni emerse durante il voto del 2007, dove oltre l'80% dei votanti per entrambi i comuni si era dichiarato favorevole al cambio di regione. I comuni di Monte Copiolo e Salso Feltrio, dopo 14 anni di attesa, hanno avuto finalmente una risposta. Con questo referendum è stata fatta una scelta da parte dei cittadini. Nel corso degli anni ci sono stati diversi eventi ostruzionistici per questo referendum. Dopo 14 anni è stato concluso l'iterreferendario e finalmente possiamo costruire e pensare a dei progetti di lunga durata. La decisione al tempo è stata presa in poche ore. Purtroppo le mosse politiche che hanno bloccato questo referendum non hanno fatto altro che portare divisione all'interno del paese stesso. Ma posso parlare, questo lo posso dire sia per Monte Copiolo che per Salso Feltrio. Oltre che la divisione fra le persone c'è stata poi anche una mancanza di sviluppo perché è logico, io capisco bene anche la provincia di Pesaro e la regione Marche che quando dovevano pensare di investire sul territorio avevano sempre in mente questi sono quelli che andranno via. La difficoltà appunto nel riuscire a portare avanti progetti a lungo termine era dovuta anche a questa indecisione di identità. Ci sono stati degli interventi durante gli anni, soprattutto due anni fa quando c'è stata la mia campagna elettorale, con una persona in particolare che ha preso, ha voluto prendere in mano quello che era appunto il comitato che si opponeva dicendo cose impossibili, illudendo i cittadini nella possibilità di fare un secondo referendum. Era impossibile farlo anche perché l'Italia del primo non era ancora concluso. Questa è stata un'ulteriore divisione che c'è stata perché il risveglio delle persone che non volevano passare in Emilia Romagna è stato fatto nel peggiore dei modi.